Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta e Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai vocalizi. E' da un po' che non facciamo il vocalizzo, Maria. Abbiamo fatti tanti in passato, però adesso ci è venuto in mente di farne uno nuovo perché abbiamo pensato a un vocalizzo per educare l'orecchio musicale, cioè un vocalizzo particolare basato un po' sulla scala araba, che è questo qui. Quindi per i maschietti diciamo con il ma facciamo così. Bene, per le perminucce. Bene. Quindi l'ideale sarebbe che il suono prima fosse liscio all'inizio, cioè senza vibrato. E qua su questa dissonanza diciamo possiamo fare un vibrato, altrimenti anche sempre liscio va bene. Ok? Proviamo a farlo insieme. Proviamo a farlo insieme. ? E qua su questa dissonanza diciamo. E qua? 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 Ancora voi. Ancora un altro. Bene, fatelo voi, torniamo indietro. Vi ricordo di fare sempre leggeri vocalizi senza esagerare. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ancora voi. Ancora voi. Ancora voi. Ultimo. L'altezza in cui l'abbiamo fatto va bene per qualsiasi voce, dal basso fino al soprano. Insomma, poi voi, se volete andare più giù, fatelo più su o altrettanto. Ma era giusto perché questo esercizio serve proprio per migliorare l'orecchio musicale. Va bene? Vi ringrazio Maria. Grazie a te. Come sempre per averci aiutato. E vi ricordo di iscrivervi su questo canale, se ancora non l'avete fatto, e di pigiare sulla campanella. Poi, ogni qualvolta esce un video nuovo, arrivi una notifica e potete guardare subito il video appena uscito. Va bene? Ciao ragazzi. Alla prossima.